Il 3 giugno torna all'appuntamento con Cali City l'estate in un sorso. 24 cantine della provincia animeranno il centro storico di Pesaro nell'evento dedicato al buon vino del territorio che per la sua terza edizione cambia location. Da Via Passeri ci si sposta infatti fra Via Castelfidardo, Via Mazza e Via Mazzolari. Quest'anno sarà in Via Castelfidardo anche perché come gli anni passati è stata per due anni in Via Passeri che come attività commerciali hanno lavorato per vincere anche il bando del centro commerciale naturale. La stessa cosa è avvenuta in Via Castelfidardo dove hanno vinto il bando regionale quindi il centro commerciale naturale Portasale si chiamerà e quindi ci sarà anche un'iniziativa all'interno di Cali City proprio anche per le volte successive che le persone si recano in Via Castelfidardo quindi avranno una scontistica. Quest'anno abbiamo cambiato anche i partner del progetto comunque c'è sempre Conf Commercio, Conf Artigianato, CNA, APA Hotel. Probabilmente sarà la migliore edizione delle ultime tre quindi coinvolgeremo Via Castelfidardo, in centro Pesaro, 24 cantine. L'ingresso è libero, le consumazioni sono a pagamento e quindi daremo un ticket composto da quattro tagliandi, sono quattro degustazioni a 15 euro. Non solo degustazioni, nelle sei ore dell'evento dalle 18 a mezzanotte il tema del vino si declinerà fra presentazioni di libri, dibattiti, arte, poesia e attività ludiche. È un programma molto ricco non solo per chi viene a degustare il vino quindi potrei anche non bere ma troverei tanti eventi nell'evento quindi una grandissima opportunità di divertimento e anche di speranza in un momento anche per ricordare i nostri amici dell'Emilia Romagna è un modo per sviluppare le attività economiche per dare alla gente un po' di ristoro.